Nessuna questione riesce a dividere la politica come la sanità e il PD, partito eterogeneo per eccellenza, non fa certo eccezione. Alla Leopolda della sanità calabrese organizzata a Catanzano nella Casa delle Culture, alla presenza del responsabile nazionale sanità del PD Federico Gelli era presente il gota del partito. Dal presidente della regione Mario Oliverio al segretario regionale Ernesto Magorno, passando per i singoli responsabili territoriali, una giornata di confronto fra le diverse anime del partito, imperniata su una questione dalla quale i diversi relatori presenti non sono mai riusciti ad affrancarsi. Quanto e in che modo la gestione commissariale della sanità regionale sia stata e possa essere efficace per il futuro. Pareri discordanti, soprattutto alla luce dei risultati dell'ultimo tavolo romano, durante il quale il Ministero della Salute ha bacchettato pesantemente la nostra regione, esiliandola all'ultimo posto per efficienza dei livelli essenziali di assistenza agli utenti. punti di vista diversi, quasi inconciliabili e un parere influente, quello di Federico Gelli, che sembra quasi inviato da Renzi per mettere una pietra sopra i sogni di indipendenza del partito calabrese che sognava un futuro senza commissario. Il commissariamento deve essere chiuso prima possibile, qui non è in discussione una figura, è in discussione appunto quelli che sono i risultati. Si è aggravata la condizione del sistema sanitario, a riprova del fatto che c'è un fallimento appunto del commissariamento. In Calabria il commissariamento, a detta di Gelli, non solo non finirà ma dovrà durare ancora per parecchio tempo. Ora però c'è una data da tenere d'occhio. Il piano operativo per il rientro dal deficit varato nel 2009 scade il prossimo 31 dicembre e senza il raggiungimento dell'equilibrio finanziario non ci potrà essere nessuna uscita dal piano.